Ogni kill che faccio devo lasciare un oggetto o un'arma Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo avete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo di agency per tentare la sfida di oggi che è Ogni kill che faccio devo lasciare un oggetto o un'arma Sta di fatto ragazzi che io cercherò di non rendermi le cose troppo semplici Cioè pure se trova la Tommy Gun, lo spasso oro, lo scar Cerco anche ragazzi di lasciare quelle armi in modo appunto da rendere il tutto più divertente Perché è normale io potrei anche lasciare sempre le bende Però non mi sembra una cosa simpatica da fare Allora sarà un casino, sarà veramente un casino Io preferisco sinceramente entrare Oh no questa cosa non doveva andare così No questa cosa non doveva andare così Mi devo subprendere subito un oggetto da lasciare in un secondo momento Anzi meglio uscire da qua Che sta cosa non sa da fare Ciao, dovrei essere... Ah ma io non ho più robe Ok una terra... Ah no perché ho fatto questa cosa Vabbè ragazzi io lascio queste per ora Io potrei farlo e varrebbe come non imbrogliare Però preferisco di no E vabbè sì però smettetela di saltarmi addosso Mi servono ancora un po' di materiali Perché andando avanti così no sapete Non è proprio una grande situazione Ok una trentina ne ho A parte che devo farmi gli scudini Cosa sto facendo? Ok calmi tutti, calmi tutti Non è... non è possibile questa cosa... È caduto? Va bene Questo ora è risale Devo lasciare un oggetto Fatto Non ho messo la porta perché non avevo cose Madonna che panico Vabbè ragazzi ma siamo circondati Ma sta mezzo mondo qua sotto Io non ho fatto altre kill eh Mi pare di no Io nel dubbio qualche volta lascio due oggetti Perché magari capito ne ho lasciati troppo pochi Ah No No Fucile a pompa grazie Queste che le prendo? Ah Sono nel panico Non so cosa prendere Il mio cervello sta impazzendo ragazzi Sul serio Cioè prendo questo No Madonna Tutto ma non quello Ok fatemi aprire un attimo Qua Ciao Madonna Questa me la prendo poi dopo la lascio Questa mi serve Questo me lo devo prendere Ok Cioè io con questo set potrei arrivare a fine game Ma giustamente Madonna Che panico Cosa stavo riedimando? Non ho capito Sono confusissimo A parte che sta un tizio giù ragazzi Lo vedo ragazzi Aspettate Massacrato Dai massacrato Non posso usciargli addosso Mamma mia Madonna Non avevo materiali Eh ragazzi Lascio la OG Non mi interessa Non fa niente Cambio l'assalto Però la Tommy Gun Però un po' me la voglio tenere Poi tranquilli Dopo devo anche quella Ma c'è ancora gente Basta Non ce la faccio più Ma tutte queste kill Non le facevo Non lo so Ma dai tempi in cui Andavo a pinna con i pendenti Quanta gente si butta di agency Ma stiamo scherzando Eh vabbè Ok ragazzi saliamo Saliamo Poco a poco Ci avacciamo a piedi Non fa niente C'è chi salirebbe Con l'elicottero C'è chi salirebbe Con i materiali Noi saliamo a piedi Perché Stiamo senza materiali Ragazzi che ci volete fare Mi stavo grattando il naso Mi stavo grattando il naso Ok Ma niente ragazzi Ho lasciato la Tommy Gun A dimostrazione del fatto Che voglio lasciare Diverse cose E non solo le stesse Per alleggerirmi la sfida La voglio La voglio divertente Ma la voglio fare divertente Ragazzi la sfida Quindi andiamo Va bene così 32,7 kill ragazzi Voglio dire Io quando andavo a pinna con i pendenti E facevo 15 kill a partita Io quando stavo a 30 Ne avevo fatte 8 Cioè quindi Ma è buggato Ma che Ah non è buggato Eh esatto Che si è aperto Ma non ci posso entrare Ehi No Vabbè ci ho provato ragazzi Devo piccarlo Devo piccarlo ora Piccalo Porto Porto Ma non gli è arrivato un proiettile Di quello che gli ho dato Uno non gli è arrivato Non ho tanti materiali Non posso fare cazzate Dimmi che Wuhuuu Sapete chi sembravo Sembravo Mario Bros Ai tempi d'oro Quando faceva il doppio salto Cioè quelle cose strane Ok Ciao No Facciamo una cosa ragazzi Cambio Rifiuto quello che ho detto E faccio così Devo farlo Vattene Porto No Vabbè Ma basta Non mi sopporto più Sto da un'intera partita Da di agency Però così è Così è scandaloso Dai così è scandalo Cioè veramente Sto a fare una partita Della madonna Ma che cos'è Cioè sei ancora Tanto ci sei ancora Dimmi che ci sei ancora Che ti devo venire a massacrare Dove sei? Fatti vedere Ciao Quindi ragazzi Lì ci siamo Allora Forse l'assalto Lo riesco a prendere Sì credo di riuscire a prenderlo A posto Ok Non fa niente Entriamo da qui Vediamo se riesco a farmi subito Qualche kill Peccato Questa è stata una brucia smirata Che però non dipendeva da me Quindi io Farò semplicemente così No A parte che io se lo elimino Devo prendermi subito La sua arma Dato che devo lasciare Qualunque altra cosa Io ottengo No no ragazzi Aspettate Calmi Calmi Questa cosa non si può fare così Calmi Calmi Ok A posto Devo lasciare assolutamente questa cosa Ho lasciato l'assalto ragazzi Come arma Quindi rip Era l'unica cosa che avevo Ho dovuto lasciare per forza quella Va bene E noi facciamo Un simpaticissimo Scambiabare Ah non lo vuoi fare Vabbè Allora fra Mi sta che ti è andata male Lascio l'assalto Per ora ragazzi La Tommy gun Finché Le acque non si calmano Un secondo Preferisco Tenermela Lascio il medikit Questi muri vero Non li ho piazzati io E infatti perché sono stati piazzati Da questo simpaticissimo tipo Fammi entrare E dai Oh che noi Il muro era mio comunque Prana Per partelo Tu come ti siete L'hai trasportato qua A parte che cosa avevi In testa Vabbè sono confuso Ok per ora facciamo così ragazzi Ripeto Almeno all'inizio Devo avere le cose Che dico io Poi dopo possiamo più divertirci E giocare Ok in questo momento Veloce di tranquillità Vi voglio dire Che ormai sono mesi Per chi non lo sapesse Che ogni sera Siamo in live Sul sito Viola Ragazzi ripeto Ormai da mesi Quindi mi raccomando Se non avete ancora iniziato A seguirci Basta che andate In descrizione Nella sezione live streaming E iniziate ragazzi Mettete il segui Così non vi perdete Tutte le live Che arriveranno Sì Dico sia stasera Sia domani Perché ragazzi Domani sera Ci sarà il famosissimo Evento Di Fortnite Che noi guarderemo Assieme Ragazzi quindi mi raccomando Se siete dei veri fan Lo guardate Solo e solamente Conforto dei gamer Mi spiace Menti è andata molto male Ma grazie di avermi curato Ok ragazzi Facciamo a questo punto Che lascio la Tommy Gun Non fa niente Cosa è veloce All'interno del bunker Ragazzi Vediamo cosa ci offre oggi Non mi sembra nulla Di particolare Sento ancora qualcosa Che sta sfondando Non ho Ok Io ero convinto Non fosse un nemico Ma è un nemico È un bot È un bot Porca miseria Il panico Che mi hai fatto prendere Quello non è un bot Quello non è un bot Non è un bot Ok Prima arma presa Devo stare attento Che non ci sia nessuno Eh no ragazzi Sono due kill questa Io come faccio Eh Devo lasciare due oggetti Solo che non posso farlo Quindi raga Ne lascio uno Raccolgo Ne lascio un altro Non so come Avrei dovuto fare In questo caso Cosa Che problema Ok Fortune Non fare domande Fortune Non fare domande Fortune Non fare Domande Ok Va bene Tralasciando sta cosa Uh Wow G bello Questo raga Comunque almeno all'inizio Io cercherò di tenermi Le armi migliori Poi dopo Quando abbiamo più mobilità Quando abbiamo più cure Più ci possiamo divertire Lasciando anche gli oggetti Più utili Però Almeno Almeno per ora Ragazzi Non posso rischiare La porta si è chiusa Devo riaprire No 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 Ciao 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 Devo scendere Devo scendere Fammi scendere Fammi scendere Fammi scendere Ok Sono sopravvissuto Sono oggettivamente sopravvissuto Non so come sono sopravvissuto Ma sono oggettivamente sopravvissuto Cioè credo sia oggettiva come cosa No Ok Lascio questo Lo spara bene mi serve Cos'altro mi può servire? Questo Il muro non è il mio Ma io non ci voglio stare Il muro è così piccolo È bello Fucile a pompa Fucile a pompa Ma io l'ho lasciato un'arma Me lo sono dimenticato Nel dubbio Credo di sì Però nel dubbio rilascio Non fa niente Alla mitraglietta Facciamo così E mi tengo questo Ok Wow Wow Che panico ragazzi Che panico Perché gestire Un'arma che devi lasciare Mentre devi sapere Quale prendere Non è simpatica Come cosa Diciamo così Allora Facciamoci Io sento ancora gente Questo è un nemico Infatti non era un bot Si vedeva Devo raggiungerlo ragazzi Dovrebbe stare Dovrebbe stare poco sopra No È salito ancora Ok Devo lasciare qualcosa Bella brutta cosa questa Non fa niente Ho fatto questo Ragazzi ho lasciato lo spara bene Mi sono liberato un paio di slot No ragamo Fa niente dai Lascio Lascio la OG Lascio la OG raga Però io i nemici che limito Li devo andare Vabbè ciao Basta 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 Levati I nemici che limito ragazzi Li devo necessariamente Andare A Lutare Perché non posso andare avanti A per coche nella mia vita Cioè capito come Ora io quello che mi ha sparato Non so se era un nemico Oppure no ragazzi Ma a me servono cure Non mi interessa cos'era Spero solo che non mi pusci addosso Ma a me servono necessariamente cure Ok cambio un attimo l'arma qui Non ho da prendermi un attimo Prodi i proiettili ma Qualcun altro in giro c'è Mi ha fermato qualcuno in testa raga Porca miseria no Facciamo così raga Aspettiamo un attimo qua Aspettiamo un attimo qua E io non Vabbè Te pareva Te pareva no Te pareva Te pareva che non andava a finire così Mori Madonna cara Mamma mia raga Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Stai a terra Io veramente ho cambiato arma Ho cambiato Cioè ho dovuto buttare l'arma Mentre questo tizio mi pushava Che brutta situazione Che brutta situazione Ragazzi mi sono mutato Mi sono mutato dal panico Ok devo subito andare al bunker E cercare Medikit Giagga Anche se non ci sono più nel gioco Questo c'aveva le bende Io faccio prima le bende Ragazzi Mamma mia Che panico E mettiamo sta cavolo di gigard Qua dentro Fatto Mamma mia Che No Cosa Vabbè ragazzi Credo che per oggi vale bene Queste sfide sono folli Noi ci becchiamo Alla prossima Mi raccomando iscrivetevi Seguitemi sul sito Viola Su Instagram Su TikTok Ovunque ragazzi Ciao Ciao